Siamo stanchi di queste cose perché a me personalmente non hanno chiesto nulla e spuntano come funghi ovunque. Inoltre, forse nessuno lo sa, ma lo Stato non sta più pagando le forze dell'ordine, saltano gli stipendi da mesi, però queste le mettono, i soldi per mettere queste schifezze ce le hanno. Questo è il comune sentire degli automobilisti che si imbattono in uno dei 12 nuovi autovelox installati tra venerdì e sabato a San Donato di Piave. Raccolte firme di protesta sono iniziate ad opera dell'ex vice sindaco Oliviero Leo e dei residenti di Via Gondulmera che invitano l'amministrazione a pensare prima a sistemare la carreggiata funestata dalle buche. Il comune vuole solo far cassa, attacca il vice governatore Gianluca Forcolin. Buona parte della popolazione sembra pensarla allo stesso modo. Ho l'impressione che sia il solito mezzo per far cassa. Vuol dire fregar i soldi a gente perché certe volte si va via e ti pensa a qualcosa altro e improvviso ti trovi nel vieto. Forse si sta un po' esagerando, se l'importante è sapere dove sono posizionati e con da evitare. Ovviamente il numero è considerevole, è molto molto alto come autovelox per una cittadina di 40-45 mila abitanti, però giustamente si devono rispettare quali sono le normative. Sono stati gli stessi cittadini a chiederci di installare questi velox nelle strade più pericolose, replica il vice sindaco Luigi Trevisiol. Se volessimo far cassa useremo altri sistemi. Le colonnine installate non sono comunque ancora attive, precisa. Lo saranno a partire dal 14 marzo. Male non fare, paura non avere. Se uno rispetti i limiti non deve avere sicuramente nessuna paura di questo. Gran parte delle polemiche su questa vicenda, conclude il vice sindaco, sono state sollevate in una logica puramente elettorale. Gianluca Furcolin che è di là del Piave, ha già iniziato giustamente, lui sta facendo la sua campagna elettorale, secondo me è partito un po' presto, non vorrei che arrivasse un po' stanco all'arrivo.